Per chi il Poirot? Ho trovato qualcosa. L'ho considerato attentamente. Sono la persona più intelligente che io conosca, ma non riesco a spiegarlo. Così passo alla seconda. Lei sta tramando qualcosa, amica mia. Ho visto milioni di questi cosiddetti sensitivi, tutti imbroglioni. Io non credo ai sensitivi. Venga con me a una seduta spiritica. Scopra lei la truffa. Detective, lei è venuta qui per screditarla. Ma io sono in grado di parlare con i defunti. Darei tutto quello che ho per risentire la voce di mia figlia. Se qualcuno vuole essere ascoltato, noi siamo qua. In ascolto. Mamma. Alicia. Che sta succedendo? Mi hai ucciso! Non può tenerci qua in trappola. Una persona è morta. Nessuno lascerà questo posto finché non saprò chi è stato. Un fantasma l'ha uccisa. Dove esserci una risposta razionale a tutto questo. Ammetta di trovarsi di fronte a qualcosa di più grande di lei. No! No! Stava dicendo. Qualcosa in questa casa ha cercato di uccidermi. Non mi guardi come una sospettata. Siamo vecchi amici. Ogni assassino ha qualche vecchio amico. Nessuno uscirà finché non avrò scoperto se i vivi sono stati uccisi dai morti. Sei stata nascosta qui per tutto questo tempo. Con chi sta parlando? Nessuno uscirà finché non avrò scoperto se i vivi sono stati uccisi dai morti. Nessuno uscirà finché non avrò scoperto se i vivi sono stati uccisi dai morti. Nessuno uscirà finché non avrò scoperto se i vivi sono stati uccisi dai morti. Nessuno uscirà finché non avrò scoperto se i vivi sono stati uccisi dai morti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.